Arrestato, ladro d'auto in azione a campagna e domiciliare, è finito un 43enne residente in zona e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, ieri dopo le 16, ha robato una Fiat Panda in località Quadrivio, nella città attraversata d'Altenza. A dare l'allarme è stato il proprietario della vettura, con i carabinieri del radiomobile agli ordini del comandante Luca Geminale, che immediatamente si sono messi sulle tracce del ladro, individuandolo a Eboli quattro minuti dopo la chiamata arrivata alla centrale del 112. Qui è stato bloccato dei militari e, dopo le formalità di rito, è finito gli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il veicolo, invece, è stato restituito al legittimo proprietario.